Oh no! Stanno grandi non non cagate! Oh la Godgan! Oh la Godgan! Non toccate mia madre! Cos'è sta macello? Non toccate mia madre! Ok qualcuno... ci dovrebbe morire malo di sto passo Mamma mia aiuto io prendo la lancia SPARTANI! Vai via! Arrivi ovunque con la lancia Guardate la tattica della vita Gabi è in modalità spartano Sono in modalità spartano Vai via! Ma perchè ce l'hai con me che muoio per prima? Ho una Desert Eagle Salve a tutti ragazzi sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale Oggi sono qui su Stick Fight in compagnia degli RGB Mi raccomando lasciatemi vedere questo video! Fai la intro Red! Tranquillo! Io mi metto qua tranquillo Con la Godgan! Guarda sta con un po' di colpi della Godgan Mettete like! Mettete like! Prima che voi! Non sei ancora morto? No! Dove sei? Non sono... adesso sono morto Salve a tutti ragazzi! Se non siete ancora iscritti premete il tasto iscriviti adesso E attivate la campanella per non perdervi i prossimi video Non? Eh! Non lo sai che questa... Iha! Ti sei... Iha! Non mi colpisci! E vai con la mia mira Iha! Ci ho smarato un razzetto e ti ho dato la spina Adesso mi sono ricordato di sto cavolo di gioco Ma povero! Hanno aggiunto su Stick Fights la modalità della vita Possiamo giocarci le mappe degli altri giocatori! Senza farle noi! Scarichiamo il lavoro altrui! Senza farle noi! Portiamo il lavoro giovanile minorile subito! Ora vediamo se Redbox riesce ad uccidere uno di noi Scappiamo entrambi... Non facciamo iniziare la partita No! Come? Buona idea! Mi rifugio! Maledetti! Lavora Red! Hai scaricato le mappe illegalmente! Guardalo! Guardalo! Scusa Gabbi non facciamo perché vogliamo uccidere noi Redbox! No! È vero! Alleghiamoci contro Redbox! No no c'ho paura è rosso! Dai! Dai vieni qui! 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 Oh! Vieni qui! Ma tanto in due non può a parte! Non può a parte! Io non è che conto molto come uno eh! Ti do tante di quelle bocce che ti faccio pentire di non essere andato in colonia! Aiuto! Io nascondo! Vieni qui! Ok! L'ho ucciso! Lo ti baggo! Lo ti baggo! Guarda! Scivolo anche! Salve a tutti! Salve Salvinovicino! Salve Salvinovicino! Noi! Buongiorno Red! Vieni a giocare con noi! No! Non voglio! Con chi? Con te e chi? Le tue bombe! Dov'è Gabbi? Eh! L'ho portato a fare un giro in America! Ti ho tirato l'arma in testa! Con quanta violenza! Occhio che qua cadono le scatole! Ehi! Ehi! Buttiamola di sotto! Buttalo di sotto se cadono le scatole! No! Le scatole! No! Spacco la mappa! Spacco la mappa! Spacco la mappa! Spacco la mappa! Si! Vincere sempre quel rosso pelle rosso! Bam! Bam così! Dovete entrare nel castello! Guardate! Rompendo tutto il castello di Gabbi! Placcati Red! Placcati! Ho paura di farlo! Dov'è andato il Gabbi? Vai Red! Sacrifica! Sacrifica ti ho detto! Vai giù! No! Ciao Red! Ciao Red! Vai giù! Vai giù! Ho detto! Io uso il rinculo del fucile! Vai! Vai via! No! Ma come? Ti ha spinto tutto di nato! Chi troppo trolle esplode! E invece... Vai a giocare a Froden da un'altra parte! Ma perché hai sempre le armi? Non mi... Cosa hai fatto? Perde le lonna! No, avevo i giuloni sulle mani e non riuscivo a sparare! Let's long go! Let's long go! Voglio la mia viola! Oh no! Io voglio la roviola! Una roviola! Questa è la mia mappa! Guarda! No! Grazie Red! No! Tu sopra e io sotto! Ma ve l'ho detto che sono un cipollino! No! Risolviamo la questione da persone civili! Ok! No! Persone civili non si... Civili! No! Civili! Civili! Volevo fargli male io invece ho finto! Guarda! Guarda! Perché? Era la pistola d'oro! Vabbè le faremo! State lontano dalla sedia di Gaio Cesare! No! Lasciami stare sono Gaio Cesare! Io sono Gaio Cesare! No! Ma perché non vi fate fare una in scena? No! No! Ha una Desert Eagle! Mi ha colpito con laghi! Il laghi mi ha colpito! Io non dico niente! Io non sono quella persona! Io non ho mai detto Gnigni! Io non dico niente! Vai via 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 via! Sono Elsa! Sono Elsa! Sono Elsa! Non sono Elsa! Non sono Elsa! Sei l'Elsa della mia spada! Non piaceva perché chiaramente è frozen! Tu sei un frozen! Un frozen yogurt! Vi frezzoni il cuore! Io sono Borat il barbaro! Io sono Borat il barbaro! Io sono Borat il barbaro! C'era Conad il barbaro chiaramente! Conad il barbaro! Conad era un barbaro! Quello che odiava la copp! Red quello brucia eh! Eh lo so infatti non potete vederne a prendere! Vi devi tirare le armi! Aspetta ma da me sta morendo Red! Nooo tu stai morendo da me! Ah sono morto io invece! Guarda come si agita! Sei su un dannato barcone? Io aiuto! Lo stavo cucinando con laser più e più volte! Guarda guarda come si fa! Dalla paura alla brace! Oh sta mappa devi subito andare lì! Oh! Guarda lo sapevo dove sono stato in alto! Tu ti buttati subito sul mitragliatore! Mamma mia ma ste mappe cosa sono ragazzi? Cos'è ste mappe? Oh ma è follia! No vabbè se vi beccate anche un solo di espulsioni morite eh! In queste mappe moriamo tutti per l'agitazione! Cos'è? Ragazzi adesso mi infilo! Oddio oddio aspetta aspetta aspetta! Vai via Red! Ma fatti il tuo percorso! Ma cosa è successo ragazzi a me hai buttato via la mappa quando vai la? No sei caduto aspetta aspetta aspetta! La vado a prendere io! La God Gun è vero! Quella che uccidi in un colpo! Squeeze squeeze squeeze! Sta andando a prenderla! Non sei attento sei troppo tardi! Non è facile! Non so come è passato lui! Redbox si morirà subito! Squeeze squeeze! Puoi tutta la God Gun e poi fai... No non riesco sono troppo cicciotto io! Non riesco a passare Red! Sei più magro di me! Squeeze! Squeeze! Ce l'ha fatta! Vediamo se sei così magro da passare da dire! Secondo me cade di sotto lo lascio fare! Guarda guardalo! Red veniva a passare da sotto! Veniva a passare da sotto! Non è vero! Devi entrare di testa! Guarda che muore! Non c'è più la God Gun! Non c'era più la God Gun! Grazie Karma! Ma non c'era più la God Gun! Ragazzi quando bisogna entrare Amazon! Buoni! Buoni allora dobbiamo spostare i pacchi! Dobbiamo spostare i pacchi Red! Sposta i pacchi! Sposta i pacchi lavoratore! Sposta i pacchi! Sposta i pacchi! Sposta i pacchi! Sposta i pacchi! Spostano da soli! Sono fake sti pacchi! Aspetta aspetta! Occhio ragazzi! Su chi ora sta cedendo! E' quello che vogliamo! Guarda Red! Ecco qua! Ciao! Guarda Red! Come si è fatto di entrare in la Redbox? Come cavolo hai fatto? Adesso scegliamo l'arma! Abbiamo fatto squeeze squeeze! Ah dai! Butta i serpenti che non ci entrano qui! Non ci entrano! Non ci entrano! Buttali dentro il cannoncione! Buttali dentro il cannoncione! Che gli spari dentro! Aspetta aspetta! Dai che ce la puoi fare! Vai Red! No! Cosa hai fatto? No! Siiii! E' ha vinto comunque lui! Ah c'ha un culo incredibile Red! Sei veramente! C'è un culo a scatola gigante! Guarda se Red facesse la culo cam! Cioè la webcam! C'è un culo! Farebbe una marea di iscritti! Dai dai! Lo farò prima o poi ragazzi! La culo cam! Guarda se ti sto portando anche un po' a te! No! 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 Aiuto! Io sono Gaio Cesare! Guardo tutte le cose dall'alto! Guarda come c'ho fatto! Guarda come c'ho fatto! Guarda come c'ho fatto! Mi fa volare i serpenti! Mi fa volare i serpenti! Ma basta! Grazie Gabby! Ad aver portato fine alle mie mani sofferenze! Ho portato fine alle tue sofferenze! Dai dite da me Gabby che ci sono i serpenti che ti aspettano! Non importa! Gabby i serpenti! Guarda se ti mangiano vivori! Stanno mangiando me! Non succederà mai! Adesso non succederà mai! Lascia che tu ruccidino Gabby! Lascia che tu ruccidino Gabby! Io lascio un po' di serpenti a Red! Eccolo là! Guardalo! Red fuggi fuggi! Ma io non li vedo! Ma io li vedo! Ma io li vedo tranquillo! Dalla mia scuola ti stanno pappando vivo! Ma come mai? Ma male male proprio! AIA! Adesso si! Finalmente! Finalmente! Geniale! Oh! Esatto! Ok si è solo con le spade questa! Ovvio! Ho detto solo con le spade! Ho detto che è solo con le spade! Ho detto che è solo con le spade! Vai via! Cosa? Dove? Perché eravate nella plebaglia lì sotto! Oh oh! Oh no! Oh no 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 no! Regala il mio canale a chi mi ruba la corona! Au! Au! Mi sono preso da solo! No no no! Si scivola poi! Aiuto! Che casino! Sai che Red si pigliare da solo solo di questo passo! Si suicida si! Tranquillamente! Red occhio che ti ho finito le piastrelle! No! Le piastrelle! Viverò io il vulcano! Nooo! No Red vai via! Aia! Aia! Brucio! Vai via! Aspetta Redbox al varco! Guarda guarda! Attiva pure il vulcano! Attivare vulcano bambino! Aspetta! Non fare nulla! Aspetta voglio attivare il vulcano! Vai via Gabby! Attiva il vulcano Red! Guarda guarda lo faccio! Lo faccio ruttare! Lo faccio ruttare! Che casino avete combinato! Allora! Riempi di lava tutto il vulcano! Eh son mica scemo! Venite qua voi nel vulcano pur che di quella porca! No no esci tu dal vulcano! No no fida ti vieni sicuro! Io vi vediamo se mi riesco un po'! Senti il rumore della lava! No! No Gabby! No 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 no! Guarda l'ho convinto! Sono vivo! Sono vivo! Come hai fatto ad essere io? Ora devo bruciare i miei serpenti! Scusate i miei amici! Ti sei bruciato nessuno! Ti sei bruciato nessuno! Ti sei bruciato nessuno! Che fettente! Sei una persona orripile! Orripile! Ah ah! La lava viene verso di me! Le armi infuocate! Funziona veramente! E' diventato The Flory's Lava improvvisamente Gabby! Gli spini fanno male uccidere in un colpo! Il serpente! No dai! Ah si! Guarda che ci muore anche Red! Guarda che ci muore anche Red! Guarda guarda! Red ti vedo bagatissimo! Cosa succede? Ah non lo so! Non ho capito! Non ce la fa più bruciissimo! Ah! Ah ti ho pigliato! Aia! Ah ti sei bruciato! No! Non vale! Sto vedendo ma non muore mai! Come non muore mai? Aspetta aspetta aspetta! Non muore mai! Non muore mai! Non ho pigliato nessuno! Andate via! Forse perché hai una patologia! Non fa! Non fa! Non fa! Mi avete distratto tantissimo fetenti Mamma mia! It's Merry Christmas! Ragazzi! A buon Natale va con la sua colla Via! Obatun! Guarda come l'hai incollato! Guarda come l'hai incollato! Non puoi scappare! Non puoi scappare! Come hai fatto ad uscire dalla mia trappola, piccolo? Vieni qua! Ma non ce la fai? Hai la patologia! Si è bloccato sulla trappola Gabi! No! Apri! Prima l'ho tirato e poi ci sono morto Oh no! No 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 no! Credevo di essere dall'altra parte! Abbiamo avuto la stessa idea Gabi! Cos'è successo? Io non ho fatto niente! Non mi sono nemmeno io ero pagata! No no no! Sei chiuso! Sei tu Gabi! Sono morto! Sono morto! Sono cotto e bruciato male! Cotto e bruciato male! Volevo disarmarlo! Esci Redbox! Granate di serpenti! No! Ti do fuoco! Ok Gabi sei fregato alla grande! No non sono fregato! No si sono bloccati! Ti va di chi urlo! Però perché sto morendo? Guarda che io posso rimanere qua all'eternità! Si si! Va bene! Red buttali qualche serpente più serio! Fagli capire chi comanda! No! No! Ma non te lo buttare addosso però! No no no! Tranquillo! Forse ce la fa! Si sono incastrati! Ce la fa! Te e un attimino qualche ingorgo di serpenti eh! Aiuto! Dov'è il buco nero quando serve? Ah! Bruciate! Guardalo! Bruciate! De che muore! De che muore! Credetelo per te! Grazie! Ce la può fare? Ai 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 ai! Gabi come va il bagno di serpenti? Mi stanno velenando lentamente! Ma non muori più? Non muori! No! Red red! Tu serpenti! Ragazzi! Sì! Finalmente! Finalmente! Vabbè io direi che per questo video è tutto! Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace in questo momento! Passate dai canali di Gabi e Lon! E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video! Ciao! Aia! Ciao! 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 Ciao!